Ha avuto inizio l'ennesima campagna di scavi archeologici della Università di Goggia a Orvieto, a Campo della Fiera. Tra l'altro nel corso delle operazioni della campagna di scavi è stata ritrovata una matrice di sigillo in bronzo del re di Francia, Filippo il Bello, volontariamente annullata in quattro frammenti. Tra l'altro l'eccezionale reperto insieme ad altri di alta qualità come quelli di antichi manufatti hanno messo in evidenza questo straordinario stato di conservazione dei reperti. Gli scavi sono condotti dal professor Danilo Leone. Lo stesso ha detto che questo è uno dei pochi contesti ceramici di età medievale e moderna rinvenuti in un complesso extraurbano nel territorio di Orvieto, indagati secondo le moderne tecniche dell'archeologia stratigrafica.